16esimo giorno de io resto a casa, oggi venerdì per un gran bel pezzo abbiamo goduto di un gran bel sole poi nuvolo ancora, patience, oggi voglio dirti non sono sicuro di averti dentro di me né di essere dentro di te e neppure di possederti, in ogni caso non è al possesso che aspiro credo invece che siamo entrambi dentro un nuovo essere che abbiamo creato e che si chiama noi non stanotte amore non ho più pensato a te ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre gira il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti con la gioia e col dolore della gente come me un mondo soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te il mondo non si è fermato mai un momento la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà più facile no eh? inoltre inoltre